Il rapporto con il paziente è fondamentale, il paziente oncologico già vive un dramma di per sé e ha bisogno nel percorso riabilitativo di una persona dedicata che possa seguirlo. Di fondamentale importanza è il supporto psicologico ai pazienti, storie e sofferenze che sono proprie di coloro che vivono questi disagi. Noi siamo convinti che la cura della disfunzione rettile ha due aspetti, la prima chirurgica che va dalla cintura in giù e se ne occupano proprio i chirurghi di altissimo livello come il professor Antonini che col suo impianto mini-invasivo ha veramente reso possibile la nuova felicità sessuale dei pazienti. Ma questa va accompagnata prima, durante e dopo anche quell'aspetto che va dalla cintura in su, ossia l'aspetto psicologico. Prendere cura di questa sofferenza e riuscire ad anticipare, fare in modo che il paziente riconosca che noi conosciamo perfettamente quello che lui prova, questi anni di umiliazione, questi anni di evitamento della vita sessuale, significa che il paziente si affida completamente. E quindi prima, durante e dopo, noi diamo un'assistenza completa. La disfunzione rettile colpisce soprattutto gli uomini più in là con gli anni, ma può comparire a tutte le età. Spesso si tratta di un problema psicologico, fondamentale quindi fornire la giusta assistenza a coloro che si trovano a convivere con questa patologia. Voi pensate che avete di fronte a voi un uomo che è ricattato, è stato ricattato per una vita dalla disfunzione rettile. Ossia l'erezione è il ricatto con cui quest'uomo ha convissuto per una vita e che lo ha veramente relegato a una vita di solitudine. Riuscire a diventare una specie di superuomo, ossia riuscire a non avere più il ricatto dell'erezione, perché non è più il sangue nei corpi cavernosi che procura l'erezione, ma è un sistema idraulico sostitutivo che la rende assolutamente indipendente dalla funzione fisica normale. E questo rende il paziente nella condizione di poter dire io in ogni momento posso avere un rapporto sessuale quando e come lo voglio. Grazie per la visione!